Ospite oggi degli incontri della civica è il pluripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi. Arriva al cinema nell'83 con Soldini, da lì non si ferma più e da oltre 30 anni è più importante direttore della fotografia del panorama italiano ed internazionale. A partire dal sodalizio artistico con Sorrentino, Luca Bigazzi racconta agli studenti la poetica della sua fotografia. Mia moglie. Ciao, sono io. Come sono stati i tuoi esordi con Soldini? È stato un inizio molto avventuroso, nel senso che io e Silvio eravamo Soldini, eravamo al liceo insieme e avevamo tutti e due una passione smodata per il cinema. Erano gli anni dell'Obraz Cine Studio, che è una cosa che voi giovani non avete conosciuto, che era un meraviglioso cine club, una sala da 30 posti dove si vedeva qualunque film della storia del cinema, anche del cinema contemporaneo e indipendente. A un certo punto abbiamo detto, ma perché non facciamo un filmino insieme, doveva essere un cortometraggio, invece piano piano è diventato un lungometraggio, si chiama Paesaggio con figure in bianco e nero. Arrivederci. La vita diventa in mancanza di fantasia uno spettacolo mortale. L'incontro con Paolo Sorrentino e quindi ha un cambio forse anche della tua fotografia con le conseguenze dell'amore. È stato un incontro molto fortunato perché Paolo è un regista molto veloce, io adoro la velocità, nel senso che è ormai diventata una specie di droga. Io sento che più vado veloce e più va veloce con me il regista e più le soluzioni creative sono innovative. Lavorare come un regista così attento agli attori, alla messa in scena, al movimento di macchina, alla composizione di inquadratura, è veramente una fortuna. Io sento proprio che devo veramente moltissimo a Paolo. Il mio unico merito è di essermi adeguato alla sua furibonda velocità. Paolo ti pone di fronte a delle difficoltà apparentemente insuperabili, nel senso che la festa della grande bellezza iniziale è un esempio tipico, cioè la macchina va a 360 gradi su un terrazzo all'ottavo piano, quindi le luci non ci devono essere o se ci devono essere e se ci sono, sono delle luci che sono in qualche modo integrate nella scena o comunque sono sospese in maniera piuttosto cambolesca. Un'altra scena di questo tipo è le scene in esterno notte nel giardino di Jut, per esempio. C'è una pedana rotante e quindi la macchina si muove a 360 gradi perché è sulla pedana insieme ai cantanti e quindi inquadra tutto il set e quindi nessun spazio è possibile per delle luci o per delle gru. Quindi integrare nella scena le luci che servono a illuminare gli attori è la scelta, è la sfida più complessa. Il realismo è semplicemente il rispetto della realtà per me, però la realtà è molto più varia di quello che possiamo immaginare, cioè le sorprese che possiamo ricevere dall'illuminazione naturale, la meravigliosa luce dei tramonti, ma anche la meravigliosa luce a picco a volte dell'estate quando è insopportabilmente alto il sole e fa caldo. Ecco, in queste infinite variazioni della luce naturale e nelle infinite variazioni della luce artificiale, noi assistiamo negli ultimi anni a una rivoluzione nelle fonti anche di illuminazione, non sono più lampadine, sono tubi a LED, neon, LED di tutto. Allora nella varietà e nel rispetto di questa moltitudine di fonti di illuminazione ci sono delle possibilità creative che una volta non erano possibili perché non era sensibile la pellicola, non erano sensibili le macchine di presa e il digitale ha aperto delle possibilità assolutamente sconosciute. Quando facciamo le luci siamo dipendenti innanzitutto dal rapporto con lo scenografo, lo scenografo sceglie degli ambienti con dei muri che hanno dei colori o non hanno dei colori e mette delle luci in scena che spesso sono le luci che noi utilizziamo come fonte principale dei luci o che comunque orientano la direzione della luce, un abbajur non si può prescindere da dove è un abbajur, da che tipo di abbajur è presente nella scena di un interno notte. Penso che l'80% delle scelte fotografiche vengano dalla posizione di macchina più che dalla luce in sé e quindi io non riuscirei mai a delegare l'inquadratura a qualcun altro. Posizionare gli attori di posizione della macchina è un'operazione legata alla luce. Un consiglio che puoi dare agli studenti, non solo a chi studia fotografia ma a tutti. L'idea del gruppo, l'idea di fare gruppo, l'idea di trovare degli amici, dei collaboratori, delle persone con cui vi intendete è il grande vantaggio della scuola. La cosa terribile di questo lavoro è la solitudine. Non si può fare il cinema, è un atto meraviglioso perché è un atto collettivo di creazione artistica che va fatta insieme ad altri. Certo bisogna conoscere il passato, bisogna sapere come sono state fatte le cose, come si fa anche il cinema, però bisogna dimenticarlo perché collettivamente dovete creare un nuovo modo di farlo e adesso è possibile. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. A far l'amore cominci a tu, a far l'amore cominci a tu. A far l'amore cominci a tu.